Eccoci, buona domenica cari amiche e cari amici, siamo qui per passare queste 6 ore di diretta insieme. Bene, con tutte le amiche ovviamente di Canalitalia 84, per chi ci segue da Sky, il 937 di Sky è il nostro canale, e il nostro nuovo canale, il 164 Shopping TV. Quindi mi raccomando, sarò noiosa, ma lo diremo, lo ridiremo e lo diremo ancora. Chi non ci dovesse vedere su canale 164, risintonizzi la TV, perché dovete vederci anche su quel canale, perché durante la settimana stiamo già mandando in onda delle registrate passate con le nostre linee d'argento ad alto titolo 925, quindi approfittatene, altrimenti poi durante la settimana non riuscite a trovarci. Shopping TV 164 del Digitale Terrestre, risintonizzate la vostra televisione. Bene, siete pronti amiche? Mi raccomando, state con noi perché abbiamo 6 ore di diretta da passare insieme, con tanti, tantissimi bei gioielli, sia in argento, sia in oro, con tante belle occasioni, tutte per il nostro pubblico. Vi voglio sul pezzo, mi raccomando, avete visto che ieri abbiamo dato un omaggino, anche oggi velo con fin omaggio, su tutti i lotti sulla nostra collezione di argento che andate ad ordinare. Mi raccomando perché la nostra collezione di argento è tutta argento ad alto titolo 925, sono tutte tante cose, sono rimasti pochi pezzi, abbiamo tante novità ancora da farvi vedere, quindi vi voglio attente, non avete scusanti, non potete farmi arrabbiare perché abbiamo 3 ore da passare in mia compagnia, poi le altre 3 ore con Giovanna, con tanti bei gioielli. Bene Max, per l'ascolto come sempre, vi auguro un buon proseguimento di domenica con Giovanna, con tanti bei gioielli. Mi raccomando, seguiteci, mi raccomando, chi non vede il 164 Shopping TV lo risintonizzi, mi raccomando, lo diciamo, ci ripetiamo più e più volte. Noi ci vediamo venerdì 15.20, Canale Italia 126 e ovviamente dal 164 da Shopping TV. Un bacio a tutti, vi aspetto venerdì con tante belle occasioni in oro 18 carati. Continuate a stare con la gioielli d'Anna, con Giovanna, con tanti bellissimi gioielli e buon proseguimento.